Si è tenuto a Milano, presso l'ospedale policlinico, un interessante incontro sugli effetti extrascheletrici della vitamina D. Parliamo di questi temi con il professor Olivieri che ha organizzato questo incontro. Professor Olivieri, ci può fornire una breve introduzione sulla vitamina D? La vitamina D è un ormone, innanzitutto è una vitamina D e non solo una vitamina, che ha un'importanza essenziale nella regolazione del metabolismo fosfocalcico e quindi nella buona salute dell'osso. È uno dei più noti ormoni calcioregolatori che consentono di mantenere un buon trofismo dell'osso. La sua deficienza infatti è stata sempre associata a quell'alterazione dell'apparato scheletrico che nel bambino, nell'adolescente si chiamano rachitismo e che nell'adulto prendono il nome di ostomalacia. E questo fin dei tempi più remoti, si parlano di segnalazioni, di alterazioni dell'apparato scheletrico riferibili, oggi possiamo riferire a deficit di vitamina D già ai tempi di erodoto. È una vitamina che è stata ultimamente poco considerata, un po' svalutata nei suoi aspetti di interesse nell'ambito osseo e che invece oggi ha un ritorno di fiamma, non soltanto per le problematiche osse, quindi in particolare alla sua carenza e quindi ostomalacia e rachitismo, ma anche per i suoi effetti extrascheletrici e quindi il suo impatto sull'apparato cardiovascolare, sui tumori, sul sistema che regola le risposte immunitarie. Direi che nonostante sia vecchia è invece ancora un ormone di estrema attualità. Ci può fornire qualche dato epidemiologico sull'ipovitaminosi D? Sì, è un ormone di grande attualità e però ne siamo carenti, in particolare nell'area mediterranea. Vi sono oramai dati epidemiologici in Italia, Grecia, ma anche nei paesi dove in Italia, il sole splende sempre, Libano, Marocco anche, di carenza di vitamina D generalizzata, quindi non solo nella popolazione istituzionalizzata o molto anziana, ma anche nell'individuo giovane, livelli quindi bassi che possono condizionare un alterato metabolismo dell'osso. Per esempio, va tenuto conto che la vitamina D interferisce spesso con le terapie dell'osteoporosi, perché quando è bassa la vitamina D, la risposta dell'osso ai farmaci per l'osteoporosi è ridotta in termini di incremento di densità ossa e anche la potenziale riduzione del rischio di frattura che si ottiene con farmaci maggiori per l'osteoporosi è ridotta se la vitamina D si mantiene bassa e non si corregge prima. Questi dati hanno lasciato un po' sorpresi i ricercatori perché si pensava che si trovassero valori ridotti di vitamina D nella popolazione nord Europa, dove in teoria, essendoci poco sole, si è esposti quindi molto meno frequentemente a quella che è la principale fonte che consente al corpo umano di produrre la vitamina D, quindi i raggi solari. Invece in realtà è un problema fondamentalmente legato ai paesi dell'area mediterranea, dove in teoria il sole splende e non dovremmo avere questo problema. Ecco, professore, passiamo all'evento che lei ha organizzato qui a Milano presso il Policlinico. Qual è il significato di questo incontro? Il significato di questo incontro è quello di trattare un argomento nuovo, o meglio, che è riscoperto oggi, e cioè gli effetti extrascretici della vitamina D, non solo tra esperti dell'osso che di questi aspetti sono meno interessati perché non vedono problematiche oncologiche, cardiovascolari e immunologiche, ma è un incontro interdisciplinare che quindi vede diversi specialisti negli ispettivi campi cardiologico, oncologico, immuninfettivo, pediatrico, discutere degli aspetti non ossei di una vitamina D che è sempre stata vista nei secoli solo come vitamina del buono stato di salute dello scheletro. E questo incontro deve anche e coinvolge anche i medici generici che sono coloro che dovrebbero sul territorio attuale con i programmi di prevenzione primaria e di controllo dell'aderenza alle terapie per osteoporosi che uno specialista ospedaliero che vede il paziente in un tempo molto lungo, dalla prima visita, non può ovviamente fare. E anche per creare quella rete interdisciplinare, quella rete di collegamento e di cooperazione tra tutte le professioni sanitarie che devono gestire il paziente. Perché noi non dobbiamo trattare l'ipovitaminosi D come fosse una patologia a sé o l'osteoporosi come fosse un'entità patologica a sé. Perché in realtà non c'è la malattia, esiste il malato che deve essere visto nella unitarietà della sua patologia e del suo essere malato. E quindi c'è bisogno di una relazione tra i diversi specialisti per creare un percorso di gestione del paziente che ottimizzi le risposte di farmaci ed efficacia degli interventi medici. Professore, quali sono i messaggi chiave emersi da questo incontro? Il principale messaggio chiave è che la vitamina D intanto non è una vitamina ma è un ormone. E ha un ruolo importantissimo non solo sul apparato scretico, e questo è noto, ma svolge oggi anche probabilmente una relazione. Si dibatte, si studia se è una relazione o un'associazione con altre patologie e altri organi. Perché i recettori della vitamina D sono quasi ubiquitari sul sistema scheletrico, sul sistema del nostro organismo, quindi su tutti gli organi del corpo umano. E quindi bisogna essere molto attenti a prevenire l'ipovitaminosi D che è di altissima prevalenza anche nella popolazione giovane, perché probabilmente questo ha un grosso effetto sulla prevenzione di altre patologie non osse, i tumori, l'ictus, l'infarto e le infezioni. E questo è il principale messaggio che dovrebbero portare a casa coloro che si occupano solo di osso e che quindi si dimenticano spesso che è la vitamina D a effetti extraossi, ma anche coloro che si occupano di altre patologie specifiche, come quelle citate, e che spesso non pensano che un ormone considerato tipicamente dell'osso abbia invece una relazione importante nella prevenzione delle loro malattie.